Buonasera, puntata numero 18 di Start, una puntata che noi dedichiamo in modo particolare ovviamente alla vicenda della Spy Story che è scoppiata nelle ultime ore, Mercedes contro Ferrari, ne parleremo in maniera approfondita, io sono Salvo Sardina, con me è Nestore Morosini, ciao Nestore. Ciao, ciao Salvo, ciao a tutti. E ovviamente c'è anche Alberto Saiu in postazione ai commenti, anzi Albert se ci vuoi ricordare come partecipare alla trasmissione. Buonasera a tutti, tanto per cominciare, allora chiunque volesse partecipare alla nostra trasmissione in maniera proattiva può farlo scrivendo un commento all'articolo di Formula Passion all'interno del quale trovate il video che state ascoltando. Ovviamente vi consiglio di fare una cosa, per evitare che il video si interrompa nel momento in cui voi inviate il commento sarebbe ideale tenere aperte due finestre in modo tale da poter commentare e vedere il video simultaneamente. Benissimo, grazie Alberto. Come potete sentire, parlo io, il che vuol dire che non c'è per il momento Mauro Coppini, essendo l'Immacolata, essendoci stato il ponte e l'Immacolata, il nostro direttore è rimasto imbottigliato nel traffico, arriverà, ci sono promesso che arriverà, quindi noi intanto andiamo nell'attesa che magari Mauro riesca ad arrivare prima della fine della trasmissione. Detto questo c'è un'altra nota di colore che devo fare prima di iniziare con la Spy Story. Oggi, 8 dicembre, Immacolata, è anche il compleanno del nostro carissimo Antonio Azzano. Adesso so che qua io mi gioco il posto di lavoro perché lui si incazzerà come una bestia, stiamo facendo gli auguri in diretta. No, ma gliel'abbiamo fatto via Facebook e c'è dappertutto che oggi è il compleanno di Azzano. L'aveva un po' nascosto, aveva cercato un pochettino di nasconderlo perché lui non ama queste ricorrenti, insomma auguri da parte nostra, da parte di Start e da parte di tutto il popolo di Formula Passion, aggiungiamo cose che non c'entrano niente. Andiamo adesso però davvero al tema caldo. Nestore, cosa è successo oggi e che cosa può significare questa Spy Story che è esplosa praticamente poche ore fa? Beh, penso che tutti i nostri lettori sappiano che la Mercedes ha accusato Benjamin Oile, spero che si pronuncia così. Dovrebbe essere Oil però vabbè… Oil però vuol dire poi dopo… Sembra che si parli di carburanti o di lubrificanti. Va bene, Facciamo Benjamin Oile, ingegnere della ricerca, di avere trafugato dei documenti e dei dati della Mercedes per portarseli dietro. Dove? 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 Era stato ventilato all'interno del Circus a metà stagione, diciamo verso agosto, che Oile sarebbe passato alla Ferrari dal primo gennaio. La Ferrari ha smentito categoricamente oggi questo discorso e anzi ha detto chiaro e tondo che citerà in giudizio chiunque scienziarti a dire che Oile ha lavorato per conto suo, per conto della Ferrari stessa, certo, e quindi si è tirata fuori da questa faccenda. Qual è la verità? Probabilmente Oile i dati li ha presi anche perché ha tentato di cancellare i file dal computer, ma ci sono dei file che anche cancellati si possono ritrovare, un hacker li ritrova facilmente. Ci sono degli hacker eccezionali in giro per il mondo, soprattutto quelli che lavorano per i servizi segreti, figuriamoci i tedeschi, hanno faticato 12 minuti. Però, insomma, non è il primo caso che succede, però io direi che la storia spy Mercedes-Ferrari non sta in piedi, sta in piedi solo la storia spy all'interno della Mercedes, perché la Ferrari è una società a sé stante che lavora a Maranello e della quale non fa parte Benjamin Oile. Mentre la Mercedes invece ha alle sue dipendenze Oile perché gli ha cambiato, come dire, mansione, l'ha messo alla produzione di serie, però l'ha sorpreso nuovamente che stava facendo qualche cosa che insomma non si dovrebbe fare. Ma voglio dire, diciamo francamente una cosa, io penso che la Mercedes abbia voluto, come ha detto, come ha detto, come ha detto, la Mercedes abbia e poi è sparita la voce. abbia voluto cautelarsi per impedire a Oile di andare in un'altra squadra. Questo, Oile è un motorista, specialista nella realizzazione di motori a combustione interna, ma sai, adesso gli specialisti sono molto polietrici e quindi però la Mercedes ha aggiunto anche una frase che se se Oile fosse passata alla Ferrari, la Ferrari ci sarebbe potuta giovare dei dati che Oile aveva accantonato, aveva carpito. Ma la Ferrari nega assolutamente che Oile... Allora, cerco di fare dunque un sunto di questo tuo intervento. Ben Oile intanto, questo ingegnere motorista è stipendiato in questo momento, anzi fino a questo momento immagino, dalla Mercedes, un ingegnere anche abbastanza stimato perché abbiamo letto anche sul suo profilo LinkedIn delle parole di elogio da parte di colleghi che hanno lavorato con lui, c'era anche, se non ricordo male, un ex direttore, un ex team manager che oggi è al team Aguri in Formula E che ne elogiava le capacità, un ingegnere che però da agosto, o da, sì, più o meno pare che sia da agosto, non lavora più con Mercedes AMG Formula 1, quindi non lavora più nella divisione interna della Formula 1, ma ha lavorato, esatto, demanzionato, o meglio, più che demanzionato, è stato spostato alla produzione di serie. Alberto Saiu, tu come vedi questa situazione? Perché è chiaro che Nestor, che ha fatto le sue ricerche, ha parlato con i suoi contatti, sa bene che la Ferrari ha dichiarato di non entrarci assolutamente nulla, però se è vero, e qua andiamo sul lato delle pure ipotesi, che Benoil ha sottratto del materiale riservato o ha provato a sottratto del materiale riservato, ecco, qualcuno dovrà, dovrebbe, dovrebbe essere rivolto questo materiale, girato questo materiale. Alberto? Beh, secondo me la situazione potrebbe essere o molto semplice o molto intricata. Allo stato dell'arte noi non abbiamo, secondo me, grandissimi spazi di manovra per prendere per una soluzione piuttosto che per l'altro. Credo che. Ad oggi sappiamo che il signor Oil, l'ingegner Oil, ha sottratto del materiale che per le sue mansioni probabilmente non avrebbe potuto né visionare, né tantomeno carpire, però da qui a dire che questo materiale gli sarebbe servito per progetti progetti futuri con Ferrari, piuttosto che con Honda, piuttosto che con qualsiasi altro team, questo mi sembra ad oggi difficile da dire. Ma certo però, Alberto, certo però che se li ha sottratti, nella sua intenzione era quella di servirsene, è sicuro. Sicuramente lui... Non si sa per... Esatto, bravo, bravo Nestor. E non sta a noi dirlo. Sicuramente lui avrà avuto le sue, tra virgolette, buone ragioni, chiuse virgolette, per provare a mettere le mani su questo tipo di materiale, su questi dati. Cosa se ne potesse fare lui, secondo me è tutto da stabilire, perché per quanto ne possiamo sapere noi, magari lui voleva, non so, alzare la posta in gioco con Mercedes perché questi dati contenevano magari delle irregolarità e lui provava, tra virgolette, a ricattare Mercedes. Oppure voleva vendere questi dati a Ferrari, voleva venderli a Red Bull, oppure semplicemente voleva studiarli in modo tale da avere un know-how, un certo tipo, per potersi rivendere a un prezzo più alto, un'altra scuderia. Questo noi non lo sappiamo. Alberto, facciamo anche un'altra ipotesi, poterli rivendere a chi eventualmente volesse fare un motore di Formula 1. Ma no, ma... In alternativa ai grandi... Sono d'accordo con te. Allora, quello che sappiamo noi di sicuro... è che il contratto è legge tra le parti. Quindi ci sarà stato un contratto tra l'ingegnere e la casa, in questo caso Mercedes, che stabiliva i dati a cui il soggetto avrebbe potuto accedere e quelli ai quali non avrebbe potuto accedere. È evidente che se c'è una causa in piedi, se Mercedes fa questo tipo di pressioni, vuol dire che molto probabilmente i dati a cui ha cercato di accedere, non erano dati che poteva consultare. Oppure, mi viene in mente un'altra possibilità, e sia sempre nel campo delle ipotesi, abbiamo talmente poca informazione che dobbiamo andare avanti proprio a tentoni, che Mercedes, per evitare di perdere un ingegnere valido, o meglio, per evitare che qualcuno della concorrenza possa strappare i servigi dell'ingegnere, gli stia facendo un po' di terra bruciata intorno, perché la situazione contrattuale di Oiler è particolare. Solitamente questi soggetti hanno dei contratti e poi dei periodi di Garden & Leave, in pratica devono stare sei mesi, un anno, senza potersi riaccasare. Quanto ho capito io, in realtà, qua la situazione contrattuale era un attimino differente, perché il contratto con Mercedes gli scadeva il 31 dicembre. E quindi niente Garden & Leave. Esatto, dal primo gennaio lui sarebbe stato assolutamente libero di accasarsi con qualsiasi altro, con qualsiasi altra azienda, comprese delle aziende di Formula 1. Pertanto io non vorrei che Mercedes stia facendo una sorta di ostruzionismo, potrebbe anche essere valida questa opzione. Certo, obbligarlo quindi a restare. Senti, ma oppure… A non andare da un'altra parte, a questo punto che ci sorprenderebbe, dopo tutto sto casino qua. Ragazzi, però, queste cose, non chiamiamole trafugamento, chiamiamole della trasposizione di elementi, date, i dati fondamentali di una marca ad un'altra. Renzo Ferrari l'ha scritto in un suo libro, dice io quando andai via dalla Fiat mi portai dietro all'Alfa Romeo i disegni dei motori. Poi tutti ricordiamo Stepney che è morto tra l'altro in un incidente stradale, Stepney che provocò, l'ex capo meccanico della McLaren mi sembra, provocò il famoso spy story del 2007. E mi ricorda anche un'altra cosa, che nel 1968 o 69 Ferrari licenziò in tronco John Surtis nel 69 mi sembra, che è accusato di essere una spia degli inglesi. perché Ferrari era il direttore sportivo della Ferrari, Eugenio Dragoni, accusava Surtis di aver fornito alla Lola dei particolari tecnici sullo sviluppo della 330 V3P4, la macchina che correva nello sport prototipo. Quindi, diciamo che non sono novità. Non sono novità, insomma. Poi quante ce ne saranno state, Dio solo lo sa, che io adesso non conosco, che magari non conoscono i nostri luttori. Sa quante sono state che non sono state scoperte? Esattamente. Nessore, ti faccio una domanda, se tu sei Ferrari e vai a parlare con un ingegnere di Mercedes perché lo vuoi assumere nel momento in cui finirà il suo contratto, è evidente che se non dei fogli con dei numeri scritti o dei progetti stampati o dei file… Intanto io non sono Ferrari. Ok. Se fossi Morosini, titolare di una scuderia, direi a Sayu, ingegnere Sayu, se lei ci ha qualche dato, noi siamo ben volentieri disposti ad accoglierlo. Ad accoglierlo insieme. Se lei ha un know-how, perché per quanto ne possiamo sapere noi, magari lui stava anche andando. Anche l'ingegnere Salvo Sardino. Sardino, sì. Comunque. Va bene, insomma, Alberto. Vediamo gli sviluppi, vediamo gli sviluppi. Esatto, anche perché altrimenti rischiamo di fare un po' la Barbara d'Urso della situazione, non vorremmo, insomma, mettere in giro cose non bere o situazioni che non sono ancora chiare. È chiaro che… Io non so perché la Barbara d'Urso ha fatto così. La Barbara d'Urso, di solito quando ci sono queste indagini in corso, di solito, ecco, non è proprio deontologicamente ineccepibile. Diciamo così. Ce ne sono parecchi di giornalisti che deontologicamente non sono ineccepibili. E come ci sono dei nostri lettori che deontologicamente dicono delle cose che non stanno né in cielo in terra, insomma, voglio dire… È qui che ti volevo portare, Nestor, perché questa settimana il tuo personaggio della settimana, il personaggio Witt di Formula Passion è stato tale Ron Dennis. Tu hai scritto… Ho avuto un po'… Ha scatenato… Diciamo al 50% dei grandi applausi e al 50% degli attacchi. Degli attacchi. Allora, io ti dico una cosa. Aspetta, aspetta, adesso, prima di andare avanti, aspetta, ti leggo semplicemente quella che poi è la domanda che ci ha fatto il nostro amico Ugo Gamba, è rivolta al direttore, il direttore al momento non c'è, però chiede di fare un pochettino di luce sulla vicenda della proprietà di questa Tagoyer, perché è ufficiale che la Tagoyer diventa sponsor della Red Bull, è ufficiale che la Tagoyer non sarà più sponsor della McLaren come è stato fino a oggi, però pare, almeno da quanto dice Ugo Gamba e da quanto hanno detto alcuni lettori nei commenti all'articolo che hai fatto, che Tagoyer non c'entri nulla con Mansur Roger. Eh no, chissà chi. Allora, la Tagoyer di chi era? Da chi è stata fondata? La Tagoyer fu comprata da un signor che si chiamava, io voglio dire una cosa, allora Mansur Roger è stato sempre identificato come lo sponsor principale della McLaren, con Tagoyer. E' anche azionista della McLaren, tra l'altro. Sì, è 25%, ma dopo è diventato azionista e forse il suo distacco con Ron Dennis è stato provocato dal fatto che Ron Dennis ha cercato una volta o due, volevo dire più volte, ma una volta o due di fare la scalata al pacchetto azionario di Mansur Roger per diventare il proprietario generale della faccenda. Mansur Roger è incavalato come una bestia perché è stato portato in una situazione con la McLaren stradale, con la McLaren stradale in cui lui ha messo un sacco di soldi e i risultati sono estremamente scarsi, finora l'anno scorso in tutto quello che ha venduto 1600 vetture, 1600 supercar, se paragonate alle 7-8 mila della Ferrari, sono niente. Sono niente. E poi c'è un'altra cosa, perché la gente preferisce comprare Ferrari o Lamborghini piuttosto che McLaren, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin piuttosto che McLaren, perché Ferrari, Lamborghini, Porsche mantengono e Aston Martin il prezzo dell'usato, invece le McLaren il prezzo dell'usato, il valore nel tempo non lo mantengono, pare che non lo mantengono. Ma poi io voglio dire una cosa, che cosa c'entra? Come si fa a sapere di chi è un'azienda? Come si fa a sapere che è il proprietario della grande azienda MLV, è difficilissimo H pronunciarlo? Quando nessuno sa com'è la composizione aziendale, si sa che il presidente della Tag Oyer è il signor Oyer, però vatta la pesca. Quanto c'ha Mansur Roger di questo o di quell'altro? Se è scoppiato il casino in Inghilterra per questa roba, vuol dire che Mansur Roger qualcosa nella McLaren contava. Se ha potuto, addirittura uno è venuto fuori dicendo ma c'è stato un comunicato della McLaren, per cui un comunicato di Ron Dennis che è stato lui a portare, a cacciare fuori dalla McLaren la Tag Oyer e di spingerla verso la Red Bull. Ma stiamo scherzando? La società McLaren ha dei deficit clamorosi, ha dei deficit che ogni sponsor che arriva emana del cielo. Figuriamoci se Ron Dennis avrebbe potuto buttare a mare uno sponsor così importante come Tag Oyer. Ma dai, su! Io poi non capisco perché i nostri lettori delle volte confondono le cose. Io ho fatto una disamina sui perché la Tag Oyer potesse essere andata da un'altra parte e dicendo che Mansur Roger era il punto di riferimento di questa società. Se questa società Tag Oyer è di proprietà di un'altra... Facciamo conto che la... Vabbè, possiamo dire intanto che la Tag Oyer, almeno dai dati che sono pubblici, perché poi il problema vero... Viene un grande gruppo francese. Ecco, no, ma il problema vero, dico, nasce dal fatto che quando si parla di società ci sono dei dati che sono pubblici, di pubblico dominio, ma ci sono anche delle proprietà, adesso qua abbiamo anche l'avvocato, sai io, mi può correggere se sbaglio, ci sono anche delle proprietà che non sono paletti. Eh, certo, non sono rivelate. Esatto. Ora, per quanto Tag Oyer, scusa Alberto, è certo, è acclarato che sia della LVMH, che poi sarebbe altro, non sarebbe altro se non Louis Vuitton e Moet Chandon, che in pratica sono un'unica società che hanno anche altre partecipazioni, altre società, tra cui Tag Oyer. Tu dicevi però, Nessere, che probabilmente Manzù Rogè ha anche delle partecipazioni in LMVH. Ah beh, e chi lo può sapere? Che ne so io. Io mi sono alimentato, dunque, se volete, se devo essere proprio chiaro, il fatto della proprietà di un'azienda è assolutamente segreto, sempre, sempre. Di chi è la Fiat? Dei fratelli Agnelli, c'hanno il 21%, il resto? I fratelli Agnelli nel senso degli Elk. Sì, sì. Boh. Quanto c'ha Marchionne? Chi lo sa? Quanto c'ha su Italo della Valle? Chi lo sa? Insomma, voglio dire, però, se uno parla di Italo, fa riferimento sempre a Della Valle. Se uno parla di Fiat, fa riferimento o a Ilcan o a Marchionne. Quanto c'ha? Punto interrogativo. Quanto c'ha? Qui il fatto è che anche gli inglesi, voglio dire, si sono scatenati sul fatto che il signor Ron Dennis ha perso, per colpa sua, una bella fetta di sponsorizzazione, che è andata alla Red Bull. Poi, Red Bull è un marchio in grande ascesa, anche perché vende delle bibite che danno la carica, no? Come si dice. Ti mettono le altre. Tagoyer dà alla carica i suoi orologi, che sono orologi di lus. Bisognerebbe avere qui l'ingegnere Jean Campiche, che era il crometrista ufficiale della Ferrari, che era un impiegato Tagoyer. E lui parlava sempre con Mansour Roger, quando io frequentavo i... Poi, Tagoyer, cioè Mansour Roger è stato quello che ha portato Tagoyer, Saudi Arabia, in Formula 1, eh ragazzi. Vabbè. Poi dopo... Tutto questo scatenarsi sulla proprietà di Tagoyer non c'entra niente col fatto che il signor Ron Dennis ha perso una sponsorizzazione importante. Perché l'ha persa? Eh, beh, perché evidentemente le prestazioni di quest'anno... Sì, ma anche perché lui ha avuto delle frizioni molto grosse con Mansour Roger. E Mansour Roger, in Formula 1, conta parecchio, ve lo dico io. Tra l'altro Ugo Gamba sottolineava che in ogni caso è vero che esce Tagoyer, però rientra Chandon, che poi fa parte sempre della stessa famiglia, quindi di fatto... Sì, sì. Poi veramente non sappiamo le cifre, e quindi Ugo non è neanche facile dire che non perdono nulla, perché bisogna capire anche quali sono le cifre della mia singola specializzazione. E poi un'altra cosa, cioè Chandon e Tagoyer, se tu fossi una scuderia, quale preferiresti? Vabbè, lì dipende anche un pochino dal target che hai. Comunque, a me sembra che... Cioè, Chandon va a prendersi una scuderia che quest'anno ha fatto leggermente un pochino meglio della Manor, spendendo la metà prendeva la Manor, anche molto meno... Vabbè, comunque, comunque... Io direi che ora qua abbiamo... Finora abbiamo parlato di due argomenti, sicuramente molto interessanti, ma sul primo non abbiamo le carte necessarie per stabilire se ci sia colpevolezza o meno, e quindi sospendiamo ogni tipo di giudizio. Sul secondo ci andiamo in pela gare, in alta finanza, e anche qui mi sembra che non abbia le competenze... Come i nostri lettori, sono tutti finanzieri che conoscono... No, ma loro ti fanno le domande a te, perché si aspettano che tu possa dare delle risposte. Però anche qua noi alziamo le mani, diciamo... Senti questa, MAV72, questo mi ha fatto arrabbiare davvero. No, 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 Abbiamo tutta la serata a parlare di questo. Basta, basta. Anzi, non ti chiedo... Ringraziami che non ti chiedo un parere sulla svalutazione delle McLaren, so che tu sei un felice possessore di McLaren, però... Sì, 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 ne ho quattro anni. Io le tengo, io le tengo, le tengo lì perché mi piacciono, poi anche se si svalutano, ah, mentano. Devo avere un modellino di McLaren. Ecco, esatto. Chissà se si svalutano anche quelli. Volevo parlare con voi invece di un altro argomento che ci ha... che ci ha... Parliamo di corse. Parliamo di? Corse, perché parliamo di finanza, di processi. Bravo, parliamo di corse, ma nì, non proprio di corse, ma di quello che succederà nelle corse dell'anno prossimo, perché a quanto pare non lo sta capendo davvero nessuno, almeno per quanto riguarda le gomme. Le gomme. C'è stato un tweet di Romain Grosjean, non proprio l'ultimo arrivato, ecco, non proprio uno che non sa come funziona la Formula 1, che a un certo punto ha detto, bah, io non ho capito nulla. Figuriamoci noi. Allora Alberto, vediamo un attimino di fare il punto su che cosa ci sarà. No, scusa, dobbiamo fare chiarezza, e te, cioè, mi ha coltelli alle spalle. No, facciamo... facciamo una premessa però prima. Sì, vai, allora, parlare delle gomme dell'anno prossimo è come parlare di alta finanza e della proprietà di Tagoiare. è un uomo. però, dai, già che siamo in ballo, ma non andiamo. Io provo a fare, prova a dire quello che ho capito, se non l'ha capito Grosjean, può anche non averlo capito Alberto, sai io. Allora, dall'anno prossimo Pirelli porterà, correggetemi se sbaglio, dall'anno prossimo Pirelli porterà una mescola in più rispetto a quelle che sta portando quest'anno, o meglio, ci sarà una mescola in più che sarà la Ultrasoft. Banda, viola, e qua ci siamo. Però, a ogni gran premio... Stai attento alle parole, perché Banda Viola ti potrebbe procurare una citazione in tribunale da parte della Fiorentina. Banda è un termine anche negativo. Spalla, come la vogliamo chiamare, scritta? No, colorato e viola. Colore. Vabbè, di colore e viola. Ok. a questo punto a questo punto Pirelli porterà ad ogni gran premio, darà la possibilità a tutte le squadre di scegliere con che tipo di mescola correre. Fermo restando che ne imporrà tre. Cioè, ecco io. Allora, ha ragione il nostro direttore. È Formula Pirelli, non è più Formula 1. Allora, in pratica Pirelli cosa vuol fare? Da un lato vuol dare libertà alle squadre, di poter variare un pochino la scelta delle gomme. Dall'altro però staranno loro stessi a imporre almeno una delle mescole che dovrà essere usata dai team. Salvo. Sì, è esattamente così. Poi ci sono anche delle regole ulteriormente che vanno a complicare anche la situazione legata alle restituzioni. Voi sapete che quest'anno, così come anche negli anni passati, ci sono delle regole che stabiliscono come le squadre debbano restituire i vari treni di gomme man mano che vengono utilizzati. Per esempio, ce n'è uno di gomme prime, cioè le gomme più dure del weekend che va restituito dopo i primi 30 minuti di prove libere 1 e ci sono diciamo delle regole che complicano ulteriormente anche questa vicenda della restituzione. Indubbiamente regole che non interessano lo spettatore. Siccome poi noi di fatto siamo appassionati, detti ai lavori, spettatori, quello che volete. Volevo chiedere a Nestor, questa regola che consentirà di fatto poi alle squadre di avere a disposizione una mescola in più rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora, sarà un bene per lo spettacolo o sarà un'ulteriore complicazione che di fatto renderà noi spettatori sul divano totalmente incapaci di capire quello che sta succedendo in pista? Così, a brutto muso, ti risponderei non avrà nessun significato né sullo spettacolo né sulla noia. Rimangono le stesse cose che ci sono quest'anno. Perché? Perché secondo me manca la mescola fondamentale, quella che ti permette di fare 400 km senza doveri cambiare. la Pirelli deve fornire le gomme non può pretendere di decidere quali devono essere usate dalle scuderie. Perché? Perché altrimenti le scuderie potrebbero osservare che nella loro direzione tecnica vengono limitate dal gommista. Allora, il gommista non è la Formula 1. Questo è anche la conseguenza del fatto che in Formula 1 c'è concorrenza tra dieci scuderie e quattro motoristi e non c'è concorrenza sulle gomme. Questa è una cosa che non... c'è lo spettacolo l'altro giorno ho scritto una provocazione l'altra volta se fosse presidente se fossi presidente io provoco la discussione sono un agitatore di uomini non voglio paragonarmi a Ferrari assolutamente era lui che lo diceva però io voglio agitare la discussione allora a che cosa mi dicono a che cosa serve cambiare le gomme in due secondi e cinque o in due secondi e otto quello è uno spettacolo tanto lo fanno tutti non è uno spettacolo è come andare a vedere sei circa questo e vedi sempre lo stesso spettacolo gli elefanti che si alzano i clown che si tirano le scarpate no invece gli elefanti si alzano ma possono anche fare qualche altra cosa insomma voglio dire perché nella formula Indianapolis sia nella NASCAR americana c'è soltanto un meccanico per ruota perché soltanto in questa maniera si vede chi è davvero il meccanico bravo oppure chi è il meccanico meno bravo in questo caso quelli della Williams che ogni tanto anche se sono in 12 fanno qualche casino no? più che ogni tanto direi più che ogni tanto sì delle volte possono possono anche perdere un campionato del mondo come è successo che non cambiarono le gomme a Manson in quel famoso Gran Premo d'Australia dell'86 insomma voglio dire le gomme le gomme sono un accessorio della macchina non sono sono un elemento fondamentale perché quando Forghieri si incavolava a me non mi danno le stesse gomme che danno la McLaren e non mi danno le stesse gomme che danno la Williams probabilmente aveva anche ragione però quella volta c'erano i test in pista cioè dare le gomme senza test è un assurdo tecnico cioè tu non puoi arrivare in un Gran Premio a dare delle gomme che corri il rischio che scoppino ogni 5 metri dopo 5 metri è inutile che mi vengano a dire la storia di Fettel è assolutamente una storia emblematica è stato il momento in cui la federazione doveva imporre al gommista una gomma che durasse 400 km queste qui sono considerazioni secondo me che poi ognuno può valutare io non sono così d'accordo con te da questo punto di vista sul discorso di gomme che debbano durare 400 km però quindi tu sei il primo a essere agitato da Nestore lui è un agitatore e lui ti ha agitato no no l'agitatore agita dei seguaci non ho detto mica che tutti le devono usare obbligatoriamente uno se non vuole fare pit stop perché non può fare una corsa senza pit stop no secondo me quello su cui su cui secondo me possiamo essere tutti e tre d'accordo è che a me sembra assurdo e cervellotico il fatto che ci sia l'obbligatorietà di utilizzare mescole diverse fare dire secondo me dovrebbe esserci semplicemente Pirelli porta tot gomme a ogni gran premio finito chi vuole usare le us chi le vuole usare esatto ma perché Pirelli perché Pirelli vuole obbligare all'uso di certe mescole le studerie ma ma Nessore secondo me non è Pirelli che vuole obbligare è la federazione o lo stratice gruppo perché ha paura la federazione che succedano degli incidenti ma no non è secondo me la paura degli incidenti anzi loro hanno semplicemente l'interesse di creare laddove è possibile e l'unico modo per farlo o uno dei pochi modi per farlo sono le gomme di creare degli imprevisti delle situazioni di difficile lettura per i team in modo tale da creare dello scompio e da avere delle situazioni differenti ma sono delle situazioni di pericolo mica male però Nessore il punto è le gomme in Formula 1 sono sempre esplose come ci sono sempre stati problemi alle componenti tecniche e meccaniche perché la gara dopo la gara dopo esattamente la gara dopo che Vettel è andata a sbattere per quel problema la gomma non mi ricordo più chi forse una Toro Rosso se non sbaglio Sainz è andata a sbattere per un problema ai dischi dei freni e nessuno ha detto ne ha né va nei confronti di Brembo allora quante volte si è rotta una sospensione un momento un momento un momento un momento è molto tra le due i due fatti ci sono delle differenze sostanziali le gomme sono gomme i pneumatici sono fatti di gomma che ha la possibilità di lacerarsi con un detrito e quindi di esplodere il freno dipende anche da quante volte lo cambi beh ma io immagino che nel momento in cui tu monti un determinato tipo di freni su una Formula 1 in linea di massima immagino che le pastiglie tutto sia abbastanza nuova abbastanza controllato detto questo di questo non hai la sicurezza mentre delle gomme si ok Nessore però stiamo parlando di componenti stiamo poi facendo delle ipotesi stiamo facendo delle ipotesi e siamo qua per questo perché se fossimo in Formula 1 non troveremo sfortunatamente il tempo di fare start ma detto questo sono componenti finiti talmente al limite che è evidente che ci possono essere delle criticità allora il discorso delle gomme è un po' diverso perché uno si dice ma come mai quella gomma lì non dovrebbe non sarebbe dovuta essere al limite perché comunque c'è il fornitore unico eccetera eccetera però capita capita che delle componenti abbiano dei problemi e questo lo sappiamo se vediamo delle macchine che vanno a 300 all'ora dobbiamo anche mettere in conto per un verso o per l'altro che possano esserci problemi che possano esserci incidei nessuno vuole incentivare questo tipo di situazioni però può succedere ok vogliamo anche parlare di un'altra cosa per cortesia perché adesso le gomme le abbiamo esaminate però poi si dice vogliamo le monoposto più veloci di 5 secondi al giro ma oh perché? no vabbè ma vi faccio io la domanda posso finire un attimo il ragionamento che stavo facendo pensavo che l'avessi finito no 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 perché poi ci siamo impelagati sul discorso dello pneumatico detto questo la federazione sta semplicemente secondo me in qualche modo cercando di creare dell'imprevedibilità laddove è possibile crearne quindi fanno in modo che i team si possano che Ferrari e Mercedes e Red Bull hanno prossimo in uno stesso gran premio si possano trovare con tre mescole diverse e quindi si possa venire a creare una situazione un pochino più di incertezza e allora devono fare i test durante l'anno perché se no il pericolo è enorme però Alberto vorrei farti una domanda a luci di quello che dici perché ci sta come ragionamento ed è condivisibile però se davvero si volesse creare una vera imprevedibilità anche con strategie diverse bisognerebbe assolutamente eliminare questa regola per me abberrante sin dal primo momento in cui stata proposta della necessità di utilizzare per forza tutte e due le mescole che vengono portate io sono d'accordissimo con te io uso quel che mi pare e ci dovrebbe essere la possibilità e Pirelli sarebbe sicuramente capacissima di farlo di avere una mescola che magari gira due secondi al giro più lenta delle altre ma che ti consente di fare senza pericolo tutta la durata della gara per fare sta roba bisogna spendere ragazzi ora guardiamo guardiamo il consideriamo anche il fatto che Pirelli non è il primo costruttore del mondo anzi certo quanto costa la partecipazione di Pirelli ai Gran Premio ogni anno vabbè ma a parte questo io credo che Pirelli se non è il primo è il secondo è il terzo però sicuramente ha le competenze tecniche per fare un prodotto questa è un'altra questione ho parlato di soldi non di competenze tecniche no ma lì sicuramente ci sono delle gare ci sono delle assegnazioni eccetera eccetera però Nestor non sono neanche tanto convinto che sia una questione di soldi perché se ci pensi Michelin nel WEC ha fatto delle gomme che alle manne durano quattro stinte parliamo di gomme che dunque possono durare quattro ore e mezza cinque ore per cui ma secondo te senza cali di prestazione per cui lo so ha fatto cento qual è la potenza economica di Michelin secondo te quella della Pirelli io questo non lo so però penso che per un costruttore comunque storico un costruttore ben radicato nel mercato quale è Pirelli quale è Michelin e non ci siano delle grandi difficoltà nel realizzare una mescola e perché non la fanno? perché secondo me c'è questo regolamento che ma perché ci vuole un regolamento di cinque quattro cinque set di gomme di mescola differente non ce n'è una che dura tutta la gara ma perché limitare? ma io il motivo più che altro lo ritrovo nel fatto che la federazione sin dal momento in cui è entrata Pirelli in gioco ha sempre puntato verso la direzione opposta cioè quella di far durare le gomme il meno possibile perché crea uno spettacolo esatto ma guarda ma chi l'ha detto che lo spettacolo di cambiare le gomme è meno interessante dello spettacolo di vedere una macchina che va fino alla fine e creare l'attesa per quella macchina che va fino alla fine assolutamente ma infatti sono d'accordo con te bisognerebbe fare in modo che le macchine possano arrivare fino in fondo senza cambiare guarda che di errori la federazione del signore Jean Todd ne ha fatti parecchi ecco ha fatto anche delle crisi buone mi fai questo assist Nestore un altro dei temi che avevamo inizialmente individuato prima che esplodesse la spy story era proprio legata alle dichiarazioni di Bernie Eccleston che diceva io alla formula 1 serviamo io serve gente come me e come Todd ci mettiamo io e Todd sul tavolo ne discutiamo e risolviamo la questione voglio sapere cosa ne pensi di questa ecco allora prendiamo una formula 1 in cui intorno al tavolo ci siano soltanto Todd e Eccleston e in pista ci siano soltanto Todd ed Eccleston chi è che corre? quali scuderie correrebbero? quali scuderie chi paga i piloti? chi è che fa venire? Todd si mette in pista a correre a piedi con Bernie Eccleston e Bernie Eccleston con Todd ma stiamo scherzando cioè la formula 1 è andata perché sta agonizzando non dico agonizzando ma in grave crisi proprio perché è mancato il congiungimento quell'anello di congiunzione forte con le strascuderie federazione e non può decidere il consiglio mondiale dell'automobilismo dove ci sono i rappresentanti dell'automobile club dell'Uganda del del Tanganyika del Costa Rica del Lussemburgo cioè voglio dire non ci sono i rappresentanti tutti i rappresentanti delle scuderie i rappresentanti del dei dei piloti i rappresentanti dei circuiti che pagano Fiori Quattrini al signor Eccleston oh loro la formula 1 secondo Eccleston è quella la più bella sarebbe quella realizzata da lui e da Jean Todd e perché non da lui e da Piero Ferrari e perché non da Piero Ferrari e Jean Todd e perché non da Salvo Rendine e Néstor e Morosini o Alberto Sayu o Mauro Coppini esatto allora io vorrei fare vorrei fare secondo me una la domanda secondo me più importante cambiando un attimino argomento ce la fa F1 Daniel una domanda per Néstor ancora sì allora lui ha letto del possibile ritiro della PDVSA vale a dire come come te sai la la compagnia petrolifera del Venezuela dalla formula 1 con possibile aperta parentesi oserei dire scontata cacciata di Maldonado dalla Renault da 98 a 100 quanto sarebbe tragica per lo spettacolo pastorone nostro non me l'ho toccato non rispondo sarebbe tragica al 100% una uscita di pastorone poi pastorone è uno dei preferiti della Renault e quindi è un pilota Renault da questo momento non è più un pilota della società petrolifera nazionale venezuelana anche se secondo me il Venezuela non ha mai abbandonato nessuno quindi da 98 a 100 F1 Daniel la risposta è 100 100 ma anche 110 tutto sommato sì è lode ha fatto bene la Maldonado ragazzi andiamo a vedere ha vinto o no un gran premio Maldonado sì contro chi l'ha vinto contro tutti le migliori squadre che ci sono in giro per la formula di oggi con cosa l'ha vinto con la Lotus con la Williams che però all'epoca non andava assolutamente sì ma non era poi la Williams sì sì non era la Williams di oggi neanche quella di ieri soprattutto e allora vuol dire che qualche cosa pastorone nostro vale a me piace molto quando sorpasso quando azzarda non è non ha avuto la fortuna di guidare una macchina che gli consentisse di esprimere totalmente il proprio valore però insomma ci sa fare secondo me la Renault non lo abbandona perché la Renault ha bisogno di un pilota anche perché il secondo è Palmer che non è proprio esperto ma è il figlio di Jonathan Palmer sì se è come il padre è meglio che faccia il medico guarda ma spero che sia meglio insomma come adesso tu devi incensare il figlio di Schumacher beh cosa ha fatto quarto è il miglior risultato cos'è quarto lì classico fa la formula qua la F4 cosa fa beh però dai magari può crescere eh sì ma non incensarlo adesso incensiamolo quando sarà cresciuto cioè diciamo che a vantaggio di Julian Palmer c'è da dire che ha vinto un campionato GP2 anzi lo ha stradominato nel 2013 quindi non è proprio io ho detto se è come il padre ho detto se è come il padre stavolta ho messo io il se che è il parabido dei minchioni se no eh 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 temo purtroppo di dover ricordarvi ragazzi che stasera ne abbiamo abusato di se quindi va bene d'altronde come si fa a non abusare di se in delle situazioni piuttosto delicate eh sì e piuttosto cioè sono misteriose quindi i se prima di andare all'argomento finale eh cosa sarebbe che adesso adesso lo scoprirai perché ti voglio scatenato su questa cosa con cui chiudiamo volevo leggere anche la domanda di Marcus Ericsson che è tornato Marcus Ericsson quindi è tornato in se stesso eh ci chiede anzi ti chiede perché evidentemente eh chi fu il personaggio il pilota personaggio sia in pista che fuori che vi ha emozionato di più negli anni Ottanta tu c'eri quindi beh emozionato di più Ayrton Senna sicuramente e poi quello che mi ha divertito di più invece è Alessandro Nannini perché raccontaci qualche un aneddoto su Nannini allora sì allora il primo il sui primi anni Ottanta Gilbil Nebb sulla fine degli anni Ottanta Ayrton Senna questi due mi hanno emozionato nessuno mi ha emozionato come loro due come piloti però quello che è più simpatico per me era Nannini dunque Nannini Patrese il sottoscritto erano una un club di di formulisti uno loro guidavano io scrivo anzi loro guidavano in pista io guidavo fuori della pista con le macchine a noleggio e scrivevo non mentre guidavi però no no allora un giorno eravamo a Imola eravamo andati a mangiare da Naldi fuori del un pochino fuori del circuito ma poco e Alessandro aveva il braccio destro ingessato perché gli avevano riattaccato la mano dopo l'incidente con l'elicottero allora arriviamo alla porta era c'era la gente ancora e uno fa Alessandro Alessandro firmami in autografo e Alessandro lo guarda e fa e con che te lo fimo col pisello era così era fatto in questa maniera era una roba era era la simpatia quando a Pasqua e a Natale mandava tutti i giornalisti il panforte da Siena il padre aveva una bella industria di panforte un dolcificio molto rinomato c'è ancora il panforte da 200 grammi e un giorno gli ho detto ma fai conto come una rotella di un diametro di 10 cm ci sono dei panforti belli grossi che ti durano dei giorni quello lì poteva durare per una merenda allora gli ho detto Alessandro ma perché mandi sti panfortini piccolini piccolini e Dio buono costano i soldi e lui fa e io gli dico ma quanto costerà quanto costeranno 500 lire 600 lire quella volta c'era no anche meno a me era 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 una battuta dietro l'altro poi non vi dico poi con le donne cos'era no dici non è che non è possibile se volete io ve lo dico però non assumo la responsabilità delle eventuali querele no siccome qua poi c'è è meglio di no è meglio di no che è responsabile allora andiamo avanti era uno che non era mai uno che non era mai contento soddisfatto ah un'altra volta arriviamo dovevamo andare in Sudafrica e partivamo con 10-10 da Malpensa sciopero dell'Alitalia ci scaricano tutti partenza il giorno dopo a mezzogiorno erano le 3 della mattina io c'avevo la solita macchina che mi portava avanti e indietro e e dico adesso Alessandro dove andiamo? si va dalla mia sorella dalla Gianna e che ci andiamo a fare? boh andiamo a vedere magari magari sta con con la sua fidanzata e vabbè io io lì per lì non ci ho pensato hai capito che la Gianna ci avesse la fidanzata poi è stato lo diceva lui e andiamo e lì invece di della fidanzata lei era a dormire ci ha fatto da mangiare e poi ci ha fatto sentire la compilation che non era anche uscita e ci aveva delle canzoni strepitose e vabbè lo trovo Gianna Nonnini e no comunque vedi che Nessore si muoveva nel jet set ancora ora sì certo con cosa volessi che andare e no ora sei con la Jule Fardina e no e no dico ora sei con me salvo era meglio quando eri con la Gianna io per forza dovevo andare nel jet set andavo in aereo sulle piste adesso non prendo un aereo neanche se mi pagano ho fatto 4 milioni 700 mila chilometri in aeroplano basta in Sicilia io vado con il traghetto e so che hai una casa qui nelle nelle vicinanze una casetta una casetta nelle vicinanze allora Alberto visto che mancano sette minuti allo scoccare dell'ora introduciamo l'argomento finale Lewis Hamilton dichiarazioni non proprio eleganti però tu avevi un'idea un po' diversa nel pre nel pre start no prego inquadrate la situazione e poi ti dico come la come la pensi sì per farla breve così diamo spazio anche alle vostre opinioni lui ha detto un po' sprezzante ecco nei confronti degli avversari dice sì ma io è vero che faccio i party faccio le feste però e poi vado in pista e vinco che è assolutamente vero è legittimo però io contesto la forma più che la sostanza Alberto no no secondo me non c'è niente da contestare sapete che io sono il primo critico di Lewis Hamilton a me non non fa impazzire come personaggio però allora prima cosa ci lamentiamo che che non abbiamo personaggi o meglio non credo che che Lewis Hamilton in valore assoluto sia un personaggio migliore di Fernando Alonso di di Raikkonen piuttosto che di Ricciardo questo però è sicuramente più simpatico no no non ne sono più simpatico però ho l'idea che quantomeno uno che fuori dalla pista si fa vedere e e ci dà qualcosa di cui parlare anzi dovrebbero essere tutti eventi così con delle caratteristiche un pochino anche estremizzati sono personaggi pubblici ci sta quindi non possiamo lamentarci se ogni tanto lui esagera un po' anzi sarebbe più bello vedere più tanti piloti comportarsi con un po' più di via di personalità in questo caso secondo me lui non è stato sprezzante nei confronti degli avversari non è stato maleducato tra virgolette nei confronti di Rosberg di Vettel o degli altri colleghi lo è stato in altre occasioni sicuramente ma non in questa secondo me qua lui si è trovato di fronte al classico giornalista che ha fatto la classica domanda sei sempre in giro sei sempre in giro sei sempre in giro e lui giustamente secondo me ha risposto ho 30 anni vivo la bella vita sono un pilota di formula 1 e poi il mio lavoro lo faccio e lo faccio anche bene quindi qual è il problema anche Regazzoni era così esatto e tanti altri sono stati così e lui piché faceva 13 volte quello che fa lui esatto e lui poi secondo me è anche un ragazzo a cui piace tantissimo farsi vedere perché anche lì si parla di feste eccetera eccetera ma cosa vediamo vediamo su instagram o su facebook due foto che mette lui e il massimo la cosa più assurda che ha fatto è di vederlo con un paio di attori due belle ragazze con in mano una bottiglia di champagne posso dire anche la mia certo finisci pure finisci pure no che se poi apriamo facebook e vediamo i nostri amici che non lo so che guadagnano 1000 euro al mese fanno le stesse identiche foto di luis Hamilton e lunedì sono in ufficio lui fa la stessa cosa e poi la domenica in pista vince i mondiali vince le gare quindi non fa niente di diverso rispetto a quello che facciamo noi ragazzi di 30 anni e io non ci vedo nulla di scandaloso e questa dichiarazione secondo me è assolutamente rimane assolutamente all'interno di un perimetro di tollerabilità quindi per due volte scusami Neste per due volte negli ultimi quanto due mesi Alberto Saiu io non so il francese quindi non so se la declino bene ma Alberto Saiu si trasforma in Gesù Lewis Hamilton per la seconda no Gesù Lewis Hamilton è iniziatamente pericolosa questa cosa ecco allora ti dirò caro Lewis Hamilton che in un caso sei stato ignobile quando hai attaccato Schumacher dentro il letto i miei titoli sono puliti i suoi no se io fossi stato Ralf Schumacher ma non è non ha mai brillato Ralf per essere un gran coraggioso partivo in aereo andavo dal signor Lewis Hamilton lo caricavo di sberle e poi dopo succedeva quel che succedeva perché una frase di questo genere è ignobile i miei titoli sono puliti parlato in effetti però siccome parliamo di Hamilton io dico che fa bene a insultare la 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 gente che ha fame con due orecchini da dieci carati di brillanti l'uno per ogni orecchio fa bene ad andare a prendere per i fondelli il royal box cercando di entrare con la camicia a fiori fa bene ad arrivare in ritardo ai parti fa bene qualunque cosa però non fa bene ed è ignobile quando fa un attacco Hamilton a Schumacher che non si può difendere dicendo i miei titoli sono puliti e quelli di Schumacher no non ho mai fatto le cose che faceva Schumacher allora io ti ridico ti do prima un sacco di botte poi dopo caro Hamilton tu le cose che faceva Schumacher non le hai mai fatte perché non le potevi fare perché non eri Schumacher scusatemi questo chiarissimo chiarissimo in effetti condivisibile assolutamente Alberto sì ecco ti hai due minuti a disposizione Alberto vogliamo leggere una domanda così a bruciapelo Alberto sì una domanda bruciapelo sì sì leggila pure nel senso ok ok leggo la domanda di Artusice chi? mi è piaciuto questo ci mettono dei nicknames incredibili no scusate faccio una parola mi è piaciuto questo rimpallo di responsabilità non so se l'avete notato ma stiamo diventando bravi anche in questo a cercare di di far finta di essere pronti quando non lo siamo Artusice che futuro c'è per Red Bull dopo il 2016 dato che il contratto con Renault scadrà gli stessi francesi volendo tornare ad alti livelli non vorranno una concorrente in casa dice poi la rivoluzione del 2017 potrà far tornare Adrian Newey alle mansioni in cui eravamo abituati ma mi sembra che dal 2017 le auto andranno sì più veloci ma gli spazi di manovra per gli ingegneri non saranno affatto più ampi Nestore il futuro di Red Bull che cosa succederà adesso con Renault perché in effetti Arturo dice bene qua Renault a un certo punto farà come ha fatto Ferrari e Mercedes cioè allora premesso che se me lo potessi immaginare o lo potessi sapere con certezza ma questa è la puntata giocherei sarei un mago e giocherei al Super in allotto e col cavolo che martedì sarei qua eh a parlare con i nostri alla radio con te e sa io ma detto questo intanto Adrian Newey perché no è un grande tecnico ha una bella equip perché da solo non farebbe niente come John Barron alla Ferrari se non aveva se non avesse avuto equip non avrebbe fatto molto tant'è vero che poi alla Benetton non è che abbia fatto quasi tutta questa roba e gli spazi di manovra non saranno affatti più ampi se continua così gli ingegneri saranno perfettamente inutili perché bastano dei ragazzini da come la Playstation al simulatore i ragazzini intendo dire 17-18 anni come Verstappen che lavorano meglio di chi ne ha 27-28 30-35 perché sono più abituati ma eh però la Renault la Renault ha bisogno di un oltre che del proprio team di un altro team di primo livello e poi Red Bull non è mica l'ultimo arrivato il fatto di quattrini quindi perché non convincere per esempio la BMW a rientrare o la Toyota però ti vorrei chiedere visto che è un discorso che abbiamo già fatto nel corso di questa stagione per la Ferrari cosa potrebbe succedere se la Ferrari fornisce la Red Bull con i suoi motori che poi perde e beh il discorso varrà l'anno prossimo con la Renault perché la Renault avrà una scuderia che è quella che ha acquisito comprando Lotus avrà anche però la Red Bull che potenzialmente avrà un GP con i motori forriva la? correva con i Mercedes però Mercedes non aveva un team ufficiale però c'è McLaren come team semi-ufficiale sì ok questo è vero allora secondo me però qua la situazione è differente a parte che credo ci sia già una frattura in essere tra Renault e Red Bull e questa è solamente una situazione posticcia per evitare di perdere un team come Red Bull sicuramente qualcuno qualche terza parte è intervenuta affinché uno dei quattro motoristi desse un motore a Red Bull ma secondo voi quest'anno vincerà più la Lotus la Renault oppure la Red Bull con i motori Lotus ma secondo me farà più punti la Red Bull ma perché parte da una base assolutamente diversa e allora questo gli conviene sempre al costruttore di motori perché tanto il mondiale lo vince lo stesso beh ma secondo me ha ragione salvo allora a quel punto lì anche Mercedes avrebbe avuto tutto l'interesse del mondo a dare i motori a Red Bull e avrebbe raddoppiato le possibilità di vincere il titolo mondiale ma Red Bull non ha ancora cioè Adrian Lui non è inorganico di Red Bull e quindi sì però se un discorso vale per Renault vale anche per Mercedes secondo me la differenza sostanziale sta nel fatto che Renault parte da una base molto più bassa e in questo caso ha l'interesse di avere un team che faccia un pochino da traino con cui poter collaborare da team guida quindi per quanto ci sarà un team che si chiamerà Renault è un team che si chiamerà Red Bull però le informazioni passeranno per avere diciamo uno sviluppo più veloce poi bisogna capire un attimino come andranno le cose perché sicuramente ci sarà un management diverso sicuramente ci saranno delle altre cose che potranno cambiare da qui a 12 mesi è evidente che io cioè io mi aspetto che comunque Red Bull possa cambiare motore alla fine della stagione oppure si potrebbe anche continuare così però magari rientra BMW e loro sono bravi negli ibridi lo era anche Honda dicevo soprattutto lo è Toyota sì no beh Honda Honda è venuto a rimorchio il primo ibrido lo ha fatto Toyota quindi boh se ci fosse se il nostro direttore fosse arrivato in tempo stasera non fosse rimasto imbottigliato nel traffico ti avrebbe detto però che un motore un conto è fare una Power Unit come lo vuole un conto è fare la Toyota Prius però c'hai però c'hai i cosi c'hai il il background c'hai l'abitudine a fare certe cose che la Ferrari non aveva se le ha dovute imbattare quello è certo quello è certo va bene direi che possiamo chiudere ti ringrazio Nestre figuriamo per essere stato con noi grazie anche a salve a tutti soprattutto ad Artusice che mi ha consentito di parlare di di Pastorone no esatto no Formula 1 Daniel Formula 1 Daniel grazie Formula 1 Daniel senza Pastorone noia per tutta la stagione facciamo la rima fantastico le maiere d'azione grazie anche ad Alberto sai io grazie grazie a te grazie a tutti e grazie a Mauro grazie a Mauro un saluto lo mandiamo a Mauro chissà se è riuscito ad arrivare in zona in zona casa beh speriamo e tanti auguri ad Antonio Azzano tanti auguri ad Antonio Azzano tanti auguri a tutti quanti comunque noi gli auguri per Natale sicuramente ce li facciamo più in là perché martedì sera 21.30 siamo di nuovo qui ciao buonanotte ciao 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 Grazie a tutti